Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video dedicato agli anticipi di questa undicesima giornata quindi alla partita che ha aperto la giornata del venerdì sera al Dallare di Bologna tra Bologna e Lazio e poi ai tre match del sabato. Sono riuscito a vedere tutte le partite quindi vi porto un commento su tutti i match che ho visto le tre partite del sabato sono Salernitana-Napoli, Atalanta-Inter e Milan-Udinese quindi tre partite dai risultati anche interessanti così come quella del venerdì. Salto ovviamente le pagelle perché per fare un video riepilogativo su tutte e quattro le partite non ho lo spazio proprio materiale per poter dire anche le pagelle e cominciamo subito. E cominciamo con la partita del venerdì quindi quella tra Bologna e Lazio, quella che chi segue il mio canale sa per me essere uno scontro diretto per la zona europea perché per me il Bologna è una squadra candidata a lottare per i posizionamenti europei da outsider ovviamente perché le prime sette della classe si sa quali sono però il Bologna è la ottava più credibile, più competitiva che c'è nel nostro campionato e anche in questa partita l'ha dimostrato. Secondo me Bologna che prosegue questa clamorosa striscia dei risultati positivi sono ben 10, adesso 11 se si considera anche la partita di Coppa Italia contro il Cesena quindi una squadra quasi imbattibile. Ha perso soltanto la prima con il Milan ad agosto però è una squadra che sta trovando sempre più certezze, sempre più solidità sia difensiva perché la Lazio praticamente non ha tirato in porta e questo è già un segnale importante per una squadra che comunque ha ritrovato due dei quattro titolari in difesa cioè Posh e Beukema ma con un Calafiori che nonostante il rientro di Lukumi che non sarà stato al 100% sicuramente comunque ha giocato nuovamente i titolari, ha giocato nuovamente bene quindi attenzione perché Calafiori partito dietro nelle gerarchie come esterno, sinistro, basso come tersino, basso e nei casi di estrema emergenza come centrale preferito a Bonifazi può diventare il centrale titolare di questa squadra perché sta sfornando una prestazione più convincente dell'altra e Lazio che ha replicato diciamo quanto visto contro la Fiorentina una partita simile a quella che la Lazio ha giocato contro la Viola nel lunedì una partita brutta così come fu brutta quella contro la Fiorentina trovate insomma il commento alla partita l'ho fatto nel video dedicato alle prime 10 giornate di Serie A ho commentato le prime 10 giornate di Serie A la classifica di Serie A dopo le prime 10 giornate però i primi 10 minuti l'ho dedicati a Lazio e Fiorentina perché avevano giocato di lunedì ecco la Lazio ha replicato la stessa partita cioè una partita concentrata più nella fase di non possesso che in quella di possesso con una Lazio che correva molto all'indietro che copriva abbastanza bene il campo perché Bologna ha vinto però anche Bologna ne è che abbia creato tantissime occasioni da gol quindi è stata una partita un po' scialba di emozioni offensive di occasioni da gol questo bisogna dirlo però una Lazio che al contrario di quanto visto contro la Fiorentina non è riuscita neanche a costruire cioè contro la Fiorentina nel secondo tempo quando la Fiorentina si è un po' sfilacciata ha un po' perso le distanze ha sfruttato il campo che gli concedeva la squadra d'Italiano per poter aggredire in profondità campo che ovviamente il Bologna non gli ha mai concesso perché nonostante Bologna sia una squadra di palleggio sia una squadra organizzata bene e tutto il resto non è una squadra che gioca particolarmente alta di baricentro anche perché conosce bene le caratteristiche di Sarri o comunque dei giocatori della Lazio e quindi non ha mai concesso la profondità semplice a Luiz Alberto, al Ghendusio, al Rovella per poter lanciare in profondità gli esterni questo ha tolto diciamo la caratteristica principale alla Lazio che qualsiasi squadra che affronta la Lazio dovrebbe fare e ha costretto la Lazio a trovare delle alternative palla al piede alternative che la Lazio non ha trovato quindi Bologna con il minimo sforzo difensivo nel senso che con tanta organizzazione con un grandissimo lavoro da parte di Ebischer e Freuler ha iniziato a evitare pericoli senza dover costringere agli straordinari il proprio portiere o i difensori a interventi magari da ultimo uomo o rischiosi in area di rigore quindi una partita dove tutto sommato il Bologna merita la vittoria perché ha giocato meglio perché è riuscita a sopportare la pressione offensiva della Lazio quella pressione che ormai è il marchio di fabbrica di questa squadra perché di tutte le partite che ho visto della Lazio soprattutto le ultime anche quelle contro Fiorentina e Sassuolo la Lazio costruiva le sue principali occasioni a gol sulla pressione offensiva cioè andava a pressare le squadre che giocano partendo dal basso cioè quasi tutte ormai nel nostro campionato tolte rare eccezioni per cercare di mettere in difficoltà i difensori o il portiere così da recuperare palla in una zona già offensiva sulla tre quarti offensiva di campo e impostare immediatamente con uno o due passaggi l'azione da gol la Lazio così ha costruito la vittoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo così ha costruito anche le principali occasioni da gol avute contro la Fiorentina il Bologna ha dimostrato una lucidità tecnica da grandissima squadra perché quando veniva pressata dalla Lazio nella sua metà campo non ha quasi mai sparato il pallone in avanti ma anzi lo ha giocato sempre con quasi disinvoltura appoggiandosi come dicevo prima a Ebischer e Freuler che sono stati due giocatori fondamentali in questo tipo di gioco perché erano i due giocatori mi è cascata la penna erano i due giocatori che supportavano la difesa che davano sempre al difensore di turno il passaggio semplice la linea di passaggio libera perché si posizionavano dove c'era spazio per poter ricevere il pallone e poi lo gestivano senza perderlo Ebischer soprattutto già lo avevo visto anche dal vivo contro il Frosinone è diventato impressionante nel modo di gestire il pallone se si pensa che in origine era un tornante da 4-4-2 un esterno in centrocampo da 4-4-2 perché lo Young Boys giocava in quella posizione di campo c'era la fascia destra dello Young Boys era Ebischer-Efty per intenderci i due giocatori che adesso sono in Serie A ecco è diventato un mediano che gestisce benissimo il possesso anche sotto pressione una caratteristica che non gli avrei mai fatto cioè non avrei mai pensato che Ebischer potesse maturare questo genere di capacità nella gestione del pallone ma così è e non è stata un'eccezione questa partita contro la Lazio e quindi il grande lavoro fatto da Freuler e Ebischer sia nel tamponare i tentativi di verticalizzazione soprattutto di Luis Alberto e di Rovella sia nel supportare la difesa nella manovra nella ripartenza dal basso hanno permesso a Bologna di soffrire poco e di impostare bene l'azione una partita dove magari gli esterni non sono stati particolarmente brillanti perché né Orsolini né Selmekers e né Doje quando è entrato nel secondo tempo sono riusciti a trovare delle trame particolarmente pericolose però ci pensa il solito Zirk Z che dà supporto da quasi trequartista perché secondo me Zirk Z è più un 10 che un 9 perché non ha nemmeno i movimenti del 9 ad attaccare l'area di rigore il primo palo non ha questi movimenti è un 10 è un 9,5 ecco Zirk Z è un 9,5 la classica seconda punta è il giocatore per intenderci che sarebbe perfetto in un 3-5-2 a supporto di una punta quindi ad esempio in un Inter a supporto di Lautaro per dire ma anche in un Atalanta dietro Scamacca ecco secondo me Zirk Z potrebbe fare veramente sfracelli il Bologna lo utilizza come riferimento perché sfrutta gli inserimenti dei Ferguson come è arrivato il gol che poi ha deciso la gara degli Orsolini dell'Indoi dei Freuler che è un giocatore che comunque sa inserirsi del Carzon quando entrerà in condizione insomma tutti i giocatori che sanno attaccare l'area di rigore e anche i Terzini perché anche Posh, Cristian, Seliko Gianni sono tutti i giocatori che attaccano l'area di rigore quindi è un modo di giocare senza riferimenti quello del Bologna che sta funzionando benissimo in questo campionato che sta mettendo in difficoltà un po' tutti quello che penso ed è il motivo per cui io vedo il Bologna stracandidato a un posizionamento europeo è che non c'è una contronomossa universale perché Tiago Motta anche due anni fa con lo Spezia aveva dimostrato di essere un allenatore che non dava mai riferimenti perché anche in corso della stessa partita cambiava modulo 4-5 volte e voleva tutti i calciatori molto duttili che potessero essere efficaci in tante zone del campo e in tante fasi della partita e della manovra quindi il Bologna non è che gioca sempre uguale cioè il Bologna cambia modo di interpretare la partita ogni 10 minuti e questo non permette alla squadra mai avversaria di prendere le misure e porta il Bologna a essere una squadra veramente difficile da affrontare per tutti se poi c'è la giocata individuale e quest'anno il Bologna ha dei giocatori che possono avere il lampone a tanti anche dalla panchina il Bologna diventa una squadra tosta quindi la Lazio ha battuto la testa contro questa squadra non è un passo falso secondo me da parte della Lazio perché il Bologna è una squadra sottovalutata ma che è una delle più forti del nostro campionato soprattutto in questo momento di forma clamoroso quindi ci sta di perdere al Dallara non è uno scempio però il Bologna dà una grande dimostrazione di forza che è quella che poi servirà a dare anche monito alle squadre che stanno inseguendo i posizionamenti europei e che magari godono di più blasone mediatico ma che poi in campo non portano la stessa qualità la stessa efficacia quindi è una vittoria meritata secondo me del Bologna che la lancia in classifica in maniera credibile anche perché la Lazio era l'ennesima big che Bologna ha affrontato in questo quarto di stagione andiamo alla prossima partita che è stata Salernitana-Napoli una partita vinta dal Napoli in scioltezza bisogna ammetterlo Napoli che ha vinto 2-0 e trovando poi i gol diciamo in una fase della partita proprio di minutaggio che lasciano credere che la Salernitana sia stata in partita per larghi tratti della gara non è l'impressione che io ho avuto guardando la partita ho visto una Salernitana ho voluto anche ascoltare le dichiarazioni post-gara di Inzaghi perché ero curioso di sapere cosa diceva e lui ha detto che secondo lui giocare con 4 attaccanti perché la Lazio scusassi la Lazio la Salernitana ha giocato con Candreva che viene utilizzato come sottopunta diciamo e poi ha giocato con DA a supporto con Iquemesi e Chaunà quindi ha giocato con 4 giocatori offensivi non 4 attaccanti però 4 giocatori offensivi con Legovski e Kullibaly a fare la legna a centro campo chiaramente è stato un modulo che poi in fase non possesso diventava un 4-4-2 con Candreva e Chaunà che si abbassavano e quindi rimanevano DA e Iquemesi come punte di riferimento un modulo molto offensivo che contro una Big con un centro campo forte con un Anghissà in queste condizioni è stato quasi consegnargli la partita e questo diciamo che contro il Napoli ci può stare anche gli esseri presi a pallonate nel senso non è uno scandalo d'altro canto Inzaghi ha detto che questo modulo con 4 giocatori offensivi con questo approccio nelle partite alla portata della Salernitana quindi contro squadre che la Salernitana può affrontare ad armi pari può essere il modo per dare anche lo spirito giusto ai calciatori perché se tu schieri una formazione offensiva dai anche trasmetti anche il messaggio che vuoi vincere che vuoi far gol che vuoi andare ad aggredire l'avversario mentre invece se tu schieri 4 difensori 5 centrocampisti il solo di A lì abbandonato davanti con a supporto centrocampisti trasmetti un altro messaggio non è sbagliato quello che dice ovviamente il punto di incontro di tutto questo pensiero è trovare l'equilibrio perché schierare 4 giocatori offensivi anche contro squadre alla portata della Salernitana può portare a una prestazione in cui poi fatichi a legare i reparti perché tutto dipende dalle prestazioni di Kulibaly e Legovski se dovessero anche essere riproposti loro due come mediani intendo cioè tutto dipende da loro due e questo scarica molte responsabilità su un classe 2003 perché mi sembra Legovski sia un 2003 appena arrivato in Italia cioè due mesi che in Italia giocava in un campionato molto minore che nulla a che vedere con il nostro campionato e su Kulibaly che è stato secondo me per rendimento per continuità di rendimento il miglior calciatore della passata stagione della Salernitana ma che giocava da 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 mediano quindi è un è una scelta forte di Inzaghi è una scelta che ci può stare secondo me non è una scelta sbagliata si fida di questi calciatori arrivati dal mercato no del Legovski si fida del 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 Iquemesi si fida del Ciaunà che hanno giocato bene in Coppa e quindi sono scelte forti anche del dell'allenatore bisognerà ovviamente vederlo in un test un pochino più credibile perché contro il Napoli la Salernitana non ha giocato bene ma è difficile giocare bene contro una squadra molto più forte di te con un modulo di questo tipo cioè d'altro canto ha ragione anche lui quando dice è inutile barricarsi in difesa e aspettare perché prima o poi il Napoli la giocata te la trova e questo è vero e questo è vero quindi lui comunque ha utilizzato questa partita per per trasmettere una nuova identità alla squadra dopodiché questa identità dovrà produrre risultati in partite che la Salernitana può giocarsi che non era quella di ieri sinceramente quindi un test che dimostra qualcosa di nuovo da parte della Salernitana con i terzini bassi che però hanno compiti offensivi perché Mazzocchi molto spesso è arrivato anche nei pressi dell'area di rigore avversaria e con questo spirito di giochista perché poi alla fine il gol di Raspadori che apre la gara arriva su una palla persa da Legovski che in uscita ha temporeggiato un po' troppo ha sbagliato i tempi dell'uscita è stato aggredito da Lobotka che gli ha soffiato palla e poi ha messo in porta Raspadori d'altro canto Legovski secondo me spezza una lancia in favore di questo ragazzo è un giocatore che ha molta personalità che nonostante l'errore grave che ha fatto ha continuato a giocare come se non lo avesse mai fatto quindi non ha subito psicologicamente l'errore ha dimostrato molto cinismo sotto questo punto di vista che è una caratteristica utile per un calciatore ed è quello che quando ha palla tra i piedi cerca comunque la soluzione risolutiva cerca la verticalizzazione cerca l'apertura di campo cerca la triangolazione centrale cioè non gioca mai semplice ovviamente essendo un giovane poi deve capire quando conviene giocare semplice perché forzare sempre la giocata può portare a dei rischi che non vale la pena prendersi come è successo in occasione del primo gol del Napoli però è uno di quelli che ti può accendere la manovra perché è vero che giochi con 4 giocatori offensivi ma è altrettanto vero che la palla ai giocatori offensivi deve arrivare perché altrimenti non servono a nulla e Legovski mi sembra essere l'unico che ha questo genere di soluzione potrebbe essere anche Martegani ma Martegani schierato come mediano sarebbe una follia e quindi nonostante l'errore grave io Legovski lo riproporrei al fianco di Koulibaly secondo me è una bella mediana perché sono giocatori fisici sono giocatori dinamici però sono giocatori che hanno anche la tecnica nella gestione della palla giusta per poter impostare una manovra senza dover ricorrere necessariamente al lancio lungo che non è secondo me la soluzione ideale per il tipo di calciatori che poi ha la salernità davanti quindi un test che chiaramente di risultati ne dà pochi dà anche pochi indizi ecco però secondo me la strada intrapresa da Enzaghi ci può stare ci può stare andrà rivista in partite un pochino più alla portata però condivido sia le parole che ha detto nel post partita che la insomma la nuova identità che ha voluto dare a questa squadra quello che non condivido nel post partita invece è l'aver ecco l'aver posto la prestazione come abbiamo giocato bene sono stati anche giornalisti a porla così la sanità non ha approcciato bene la gara no perché se non ci fosse stato uno show in grande spolvero la sanità avrebbe perso 5 a 0 e si sarebbe parlato di altro cioè quello che si è visto in campo è stato un dominio assoluto da parte del Napoli però una salernitana che sembra comunque un pochino più ripulita anche dai propri spettri quelli che con Paolo Sosa si vedevano c'era una salernitana che era anche poco molti calciatori della salernitana erano anche poco coinvolti in campo c'era stato un calo drastico delle prestazioni di alcune individualità ecco quello su cui secondo me deve deve ragionare bene il buon il buon Inzaghi è la coppia difensiva se vuoi giocare con la difesa 4 ti devi scegliere la coppia difensiva giusta se Pirola mi convince ci può stare quello al fianco di Pirola secondo me non può essere fazio ci sono giocatori migliori su tutti Daniliuk secondo me però anche Gionber comunque un giocatore di grande esperienza che può che può dare una mano se vuoi giocare con la difesa 4 ecco fazio è vero che ti dà la soluzione nel gioco aereo che Pirola magari non ti dà e può essere una carta anche nei piazzati sia offensivi che difensivi però difensivamente lo si è visto fare degli errori grossolani anche quella sull'occasione capitata a Politano dove ha cercato di anticipare Kvarascheri e in realtà gli ha passato il pallone insomma fazio deve essere una carta d'emergenza secondo me non un titolare con tutto il rispetto per quello che è stato comunque un buonissimo giocatore anche con la maglia della Salernitana appena arrivato quindi questo è un po' diciamo insunto non parlo del Napoli perché tanto tifosi del Napoli che seguono il mio canale non ce ne sono comunque una prestazione solida un Napoli messo in campo bene che ha aggredito la partita nel modo giusto non ha rischiato praticamente niente quindi è una partita pulita da parte del Napoli che ha portato a casa tre punti che ha strameritato per quello che si è visto in campo veniamo al big match diciamo di questi anticipi quindi Atalanta-Inter la partita sicuramente più divertente delle quattro una partita giocata bene secondo me da entrambe le squadre dove poi alla fine ha vinto la squadra più forte perché gira e gira l'Inter come ho detto anche nel video poi delle prime dieci giornate è la squadra nettamente più forte del campionato ha in panchina calciatori che sarebbero titolari ovunque e quindi è una squadra che poi ha messo in campo una maggior qualità che gli ha permesso di portare a casa la vittoria è una vittoria pesante molto pesante perché è un campo molto difficile contro una squadra che comunque ha fatto una partita importante perché l'Atalanta non è non ha giocato sotto tono anzi secondo me l'Atalanta ha fatto una delle migliori partite stagionali e nonostante questo ha perso magari anche sugli episodi perché poi Lautaro ha trovato la grande conclusione mentre Sommer ha fatto un paio di interventi importanti cioè nel senso poi come sempre le partite equilibrate le partite ben giocate da entrambe le squadre vengano decise dagli episodi e gli episodi possono essere arbitrali come possono essere episodi di campo normalissimi e l'Inter secondo me ha certificato la vittoria perché comunque ha gestito meglio il possesso palla ha giocato meglio nel complesso però l'Atalanta ha dimostrato in questa partita nonostante la sconfitta di essere una 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 bella squadra di essere una bella squadra che se riesce a gestirsi bene gli impegni infrasettimanali delle dell'Europa League può tranquillamente essere un un outsider per la Champions ma tranquillamente ma lo dico proprio con serenità a parte che l'ho detto anche nel video delle 10 partite questa e questa e questa prestazione diciamo mi convince ancora di più cioè è arrivata una sconfitta contro la squadra più forte del campionato e ci può stare però l'Atalanta è forte l'Atalanta è forte e se dovesse fare qualche passo falso in Milan in Napoli la Juve o chi per loro l'Atalanta è lì e diciamo che delle delle squadre del nostro campionato è la quinta secondo me è quella che più credibilmente può può aggredire la la zona Champions è una partita dove l'Atalanta sfrutta veramente tanto gli esterni e sfrutta tanto Ruggeri Zappacosta Ruggeri è un giocatore che già l'anno scorso Gasperini ne parlava sempre molto bene adesso sta cominciando a farlo giocare titolare inamovibile nonostante l'arrivo di Bacher che non si è integrato bene è arrivata la cessione di Mele insomma Zappacosta è stato dirottato dall'altra parte e Ruggeri adesso è il padrone di quella fascia e merita sempre di giocare perché le sue prestazioni sono sempre ampiamente sufficienti anche ieri ha fatto un'ottima partita e quello che ho visto una crescita importante da parte di Ederson che per me rimane una mezzala così come Pasalic sono giocatori da centrocampo a tre secondo me però sicuramente rende molto meglio da mediano che da trequartista secondo me perché ha grande dinamismo ha una fisicità importante e quindi rende molto di più al fianco di di De'Ron piuttosto che sotto scamacca dove poi di giocate importanti in quella zona di campo ne ha poche perché c'è anche meno spazio mentre invece partendo dalla mediana ha un pochino più di libertà e riesce magari anche a sfruttare la sua tecnica di calcio perché poi di tecnica nell'assistenza ce ne ha tanta ma gli mancano i tempi secondo me e quindi giocare più avanzato nel campo fa emergere i suoi difetti le sue lacune mentre invece giocare mediano le nasconde un po' sotto al tappeto e le sue prestazioni crescono indubbiamente migliore in campo assolutamente Cialanoglu che ha dominato dal punto di vista tecnico nel senso che non ha sbagliato praticamente niente in impostazione e il rigore che poi lui trasforma nasce da un'invenzione clamorosa per Darmian da una palla veramente geniale ma poi ha fatto anche tanti interventi difensivi si è proprio calato bene in questo ruolo che gli ha disegnato Inzaghi che sembrava essere una forzatura inizialmente perché Brozovic era infortunato e Inzaghi si inventò Cialanoglu mediano poi Cialanoglu ha continuato a giocare anche con il rientro di Brozovic perché le prestazioni hanno convinto un po' tutti quindi da essere trequartista è diventato un mediano ma gioca meglio da mediano che da trequartista quindi è stata una grande invenzione da parte di Inzaghi e il rendimento insomma gli dà assolutamente ragione detto questo comunque è stata una partita dove secondo me è difficile trovare dei giocatori insufficienti sia da una parte che dall'altra cioè nel senso è stata una partita giocata bene da entrambe le squadre dove anche i subentrati hanno dato il loro contributo e dove poi alla fine l'ha vinta l'Inter perché Lautaro ha fatto un gran gol fine della storia insomma non è che c'è tanto da girarci intorno sono state due giocate individuali di due grandi giocatori Lautaro e Cialanoglu che hanno inventato i due gol Cialanoglu ha inventato il rigore diciamo e Lautaro il gol e l'Atalanta comunque ha avuto una reazione importante perché sotto 2-0 contro una squadra che ti dava l'impressione in qualsiasi momento di poterti fare il terzo perché dal niente poteva inventarti un'occasione da gol ha avuto la forza e la capacità di trovare il 2-1 e di rientrare in partita cercando poi il 2-2 quindi una bella prestazione da parte di entrambi l'Inter con questa vittoria si stracandida allo scudetto a parte lo è già in partenza la principale favorita allo scudetto ma questa vittoria in un campo difficile contro una squadra forte che ha giocato bene dà veramente il senso di quant'è la forza di questa squadra Atalanta che comunque non deve delegittimare il suo percorso e il suo progetto per questa sconfitta che ci sta perché perdere contro l'Inter è legittimo e in cui cioè nei 90 minuti in cui è andata anche una dimostrazione comunque di una squadra forte quindi il risultato poi è negativo ma la prestazione è molto positiva e quindi secondo me l'Atalanta merita comunque un plauso per quello che ha messo in campo sia dal punto di vista caratteriale che dal punto di vista tecnico-tattico e giocando così non avrà problemi a togliersi tante soddisfazioni in questo campionato l'ultima partita è Milan-Udinese una partita che ha riservato una grande sorpresa di risultato sicuramente perché è arrivata la prima vittoria in campionato dell'Udinese che che a questo punto sale a quota mi sembra a 11 perché era 8 no forse era 7 7 pareggi e 3 sconfitte mi sembra quindi sale a 10 che è una posizione classifica comunque 10 punti in 11 partite comincia a essere una media quasi da salvezza poi bisognerà vedere ovviamente quale sarà la quota salvezza quest'anno però la classifica adesso assume un altro significato soprattutto dai questa spallata alla classifica questi 3 punti che non arrivavano mai arrivano in un campo nobile come quello di San Siro contro una squadra che comunque è tra le più forti del nostro campionato però voglio parlare dell'Udinese perché come è arrivata questa vittoria cosa ha fatto Cioffi per dare questa vittoria allora in realtà secondo me a parte qualche modifica nel gioco sulle fasce della squadra perché Ebosele e Zemura che è una scelta forte di Cioffi perché aveva sempre giocato Camara Zemura era un oggetto misterioso fino al suo arrivo e invece Zemura è diventato titolare di questa squadra ha fatto una grandissima partita è stato uno dei migliori in campo secondo me Zemura sulla sinistra gli esterni attaccano il centro del campo cosa che con sottil non facevano mai cioè gli esterni giocavano per andare sul fondo del campo e crossare giustamente se tu giochi senza centravanti cioè senza un centravanti di fisico no l'anno scorso potrebbe essere Beto quest'anno può essere Lucca è inutile giocare con i cross tanto nel senso non c'è nessuno che può vincere il duello con i centrali difensivi avversari e quindi giustamente soffi sfrutta la fisicità la gamba di questi esterni che sono molto forti fisicamente ma che tecnicamente possono avere dei limiti per aggredire il centro del campo ed è la scelta giusta secondo me e grazie a questa soluzione è arrivato il rigore che parentesi su rigore per me c'è cioè ho visto fischiare quest'anno rigori molto più patetici di questo perché Adlin non prende il pallone poi che Bosele si tuffi questo è assiomatico è normale vieni toccato nella rigore e ti butti è ovvio tanto non sapeva più dove andare era ormai stato imbottigliato quindi è normale che il giocatore si tuffi però il contatto c'è la palla Adlin non la prende è rigore cioè secondo me questo è rigore è giusto che il VAR non sia intervenuto perché non è un chiaro errore è un'interpretazione di campo dell'arbitro che ha deciso di dare calcio di rigore ed è una decisione che ci può stare poi è un rigore netto no ma ho visto fischiare quest'anno rigori molto più ridicoli di questo con l'intervento del VAR tra l'altro che non sarebbe potuto intervenire perché si interviene solo in caso di chiaro errore e l'ho visto intervenire in caso di interpretazioni quindi per quanto mi riguarda il rigore c'è e Pereira lo trasforma con grandissima freddezza perché non è facile battere un rigore a San Siro con la squadra che sta pareggiando insomma contro un portiere come Magnano non è assolutamente semplice ha battuto il rigore perfetto però un Udinese che ha difeso con le unghie e con i denti la vittoria bisogna ammettere che sulla vittoria ci ha messo una pezza Silvestri ed è una novità quest'anno perché Silvestri da quando è arrivato a Udine è sempre stato un portiere di grandissima affidabilità di grandissimo rendimento ma quest'anno non aveva mai sfornato prestazioni come quella di ieri e anzi a volte era stato anche un cioè una componente negativa cioè aveva fatto anche degli errori grossolani in alcune partite che avevano portato alle sconfitte o ai gol subiti comunque da parte della sua squadra quindi adesso perché tanto la filosofia del giornalismo sportivo fa così eh Cioffi ha risolto i problemi l'Udinese no perché se no se no si parla tanto per parlare no cioè l'Udinese ha fatto una partita di grande attenzione difensiva come sempre dove ci ha messo una pezza al suo portiere che quest'anno raramente aveva messo le mani sul risultato perché se Silvestri avesse fatto la prestazione in linea con quella che aveva fatto nelle precedenti partite l'Udinese probabilmente non sarebbe uscita con la vittoria dal campo perché la parata che fa sul colpo di spalla di Giroud è sensazionale ma anche la prontezza con cui si avventa sui piedi di Florenzi mi sembra su quell'azione in area rigore dove Florenzi aveva stoppato bene il pallone e Silvestri gli si è buttato addosso per levargli palla cioè Silvestri è stato determinante ieri e è normale che un portiere sia determinante io anche l'anno scorso le squadre che si sono salvate le Empoli Lecce il Verona lo devono tanto ai loro portieri cioè Falcone Montipò e Vicario sono stati determinanti per la salvezza di queste squadre al contrario ad esempio di un Drongoschi che ha dato pochissime certezze l'anno scorso allo Spezia quindi là o anche di un Carne Secchi che per quanto sia esaltato perché è un prospetto importante faceva il buono e il cattivo tempo alla Cremonese l'anno scorso quindi si sta parlando di un ruolo che è fondamentale per queste squadre quindi un Silvestri in questo spolvero è determinante e lo si è visto già ieri ha portato tre punti alla squadra che senza questo genere di prestazione non sarebbero mai arrivati e poi sono punti che pesano alla fine di una stagione quindi Ludinese ha ritrovato il suo portiere e questa è la prima notizia e ha ritrovato la porta inviolata ha ritrovato la cioè ha confermato non ritrovato ha confermato la solidità difensiva e ha trovato questo gioco sulle fasce che funziona perché quasi tutte le occasioni da gol anzi tutte le occasioni da gol che ha avuto Ludinese sono passate quasi tutte da Zemura alcune anche da 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 Ibozele quindi questa è una soluzione importante rimane il fatto che a centrocampo non puoi giocare solo sugli esterni ecco cioè nel senso è giusto che tu faccia affidamento a questi giocatori per le caratteristiche che hanno ma non puoi fare affidamento solamente a loro non mi è piaciuta l'idea di Pereira sottopunta ha giocato malissimo ha fatto il rigore ha realizzato il rigore e ovviamente porta i tre punti però ha giocato a parte il gol che si è mangiato sull'errore di di Florenzi dopo l'azione di Zemura ma e ha giocato male cioè non si è mai visto tra le linee sempre nascosto dietro le maglie del mediano del cronice del musà della situazione non si è mai visto non ha mai giocato pulito una brutta partita da parte di Pereira Samarzic molto più avvezzo al sacrificio al correre dietro i giocatori a interdire piuttosto che a costruire ed è una cosa positiva perché sei il giocatore più tecnico della squadra sei quello che puoi inventare il gol da qualsiasi momento però ti devi calare anche nella dimensione in cui sei e quindi lo spirito di sacrificio è necessario Samarzic ci si è calato molto bene non è entrato male nemmeno Lovric in partita e anche questa è una notizia perché Lovric quest'anno era sistematicamente un proprio un malus in campo perché ha sempre giocato male quest'anno nell'Udinese e quindi ecco c'è da lavorare un pochino più nel centro del campo ha fatto una grande partita success però c'è da lavorare un pochino più lì perché va benissimo sfruttare Zemmure e Bosele ma non puoi passare solo da lì perché altrimenti sei anche prevedibile però sono tre punti pesantissimi una prestazione dignitosa una prestazione di solidità di attenzione tatticamente disciplinata e poi la vittoria è arrivata perché è stato bravo il portiere perché ti sei conquistato un rigore e perché il Milan ha giocato male perché il Milan ha fatto cagare bisogna dirlo il Milan ha fatto una bruttissima prestazione un cambio di modulo che ha messo un po' in tilt tutti non ci ha capito più nulla nessuno Giroud non è riuscito a fare il suo solito lavoro di sponda un leao poco ispirato veramente poco 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 ispirato è mancato Teo Hernandez perché la spinta che dà Teo Hernandez sulla fascia Florenzi a piede invertito ovviamente non la può dare la peggior prestazione stagionale di Reinders indubbiamente ha giocato molto male in tutte e due le fasi e questo poi ha portato il Milan a soccombere poi ha avuto le sue opportunità per trovare il pari indubbiamente sì ma se il Milan contro l'Udinese che con tutto il rispetto è inferiore al Milan per cui è normale che il Milan si costruisca delle occasioni a gol però ho visto una squadra molto molto bloccata poco poco fluida insomma una squadra confusa disorientata che ha perso un po' di certezze e questo cambio di modulo di Pioli secondo me è vero che mancavano sia Pulisic che Ciuqueza dall'altra parte però è stata una forzatura che poi ha fatto danni ha fatto danni e non è entrato male in partita Okafor non era entrato male nemmeno Adli in realtà poi ha procurato il rigore però ecco la manovra era migliorata nel Milan con l'ingresso di Adli al posto di Krunic però ecco per quanto mi riguarda è stata una partita dove dove sono emerse un pochino di di incertezze della squadra e su cui Pioli deve lavorare poi l'ambiente che c'è intorno all'allenatore è bruttissimo perché è molto screditato come allenatore io da Fiorentino a Firenze non ha fatto bene però mio padre è tifoso del Bologna Pioli a Bologna ha fatto molto bene ha fatto molto bene alla Lazio ha fatto bene anche all'Inter cioè non è un idiota Pioli ha vinto uno scudetto da outsider con il Milan ha valorizzato tanti calciatori quindi sinceramente screditare così tanto questo allenatore secondo me non è nemmeno giusto d'altro canto in questo momento il Milan sembra un po' in difficoltà non così tanta secondo me da dover mettere in discussione l'allenatore però qualche problemino c'è sicuramente però ne ha risolti tantissimi nella sua carriera sulla panchina del Milan diamogli modo di risolvere anche questi ecco attendiamolo secondo me se lo merita anche ed è giusto dargli il tempo di risolvere questi problemi il mio video si conclude qua vi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate di queste partite della vostra squadra se è una di queste otto e se siete d'accordo con me ma soprattutto se non lo siete scrivete nei commenti il vostro parere se sapete delle informazioni in più che io ho messo nel mio video mettetele pure nei commenti perché aiutano anche gli altri utenti avere una panoramica più completa della situazione mettete mi piace al video soprattutto iscrivetevi se non lo siete per supportarmi se volete altri video di questo tipo se volete più approfondimenti sulla vostra squadra potete chiedermelo se ho tempo cerco di accontentare tutti noi ci vediamo come sempre ai prossimi video che saranno dedicati alle altre partite di questa giornata quelle della domenica un carissimo saluto a tutti ciao